Ecco fatto, sei sicuro di voler tornare? Sì? Oh, fai! Abriane quando torna dall'Inghia lo voglia un po' frastornare, un po' diverso. Lui in India ha avuto una premonizione di un incidente stradale che una sera dopo l'incidente è caduto. Questa cosa squadra molto Gabriele. Si ripresenta alla fabbrica e cominciano a succedere tante cose strane che confermano al nostro personaggio questa non normalità. Michela è la protagonista femminile del film, è la fidanzata di Gabriele ed è una donna molto buona, ma al tempo stesso con le idee molto chiare. Devo dire che la sua caratteristica maggiore è la sua disarmante dedizione a suoi suoni. e quindi lei farà di tutto per stargli a casa. Non c'è stato nessun incidente che... non c'è stato dottito, non c'è stato nessun incidente. E' una situazione familiare difficile. Che vuoi da me?! Fa spazio tra la folla, entra qui, ne vediamo. GAMPIONE! Federico, basta! Mi ha piacere partecipare in qualcosa che è un sogno che si sta realizzando e che ha questa energia del sogno che si sta realizzando. Azzione! Azzione! Grazie a tutti. Grazie a tutti.